Sono 66 nuovi casi di positività al covid-19 registrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. I risultati odierni fanno salire la quota complessiva a 2.733. L'aumento si registra su un totale di 1.418 tamponi analizzati, 4,6% di positivi sul totale. I 66 casi di oggi si riferiscono 32 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 29 alla ASL di Pescara, 5 alla ASL di Teramo e nessuno alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 55 su un totale di 1.151 tamponi analizzati, 4,7%. 276 sono invece i pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. 309, meno 9 rispetto a ieri, sono i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva. 349 sono invece i guariti, più 20 rispetto a ieri, di cui 172 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 177 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 30.348 test, di cui 23.512 sono risultati negativi. Del totale dei 2.733 casi positivi complessivi rilevati in Abruzzo, 238 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 648 all'ASL Lanciano-Vastochetti, 1.215 all'ASL di Pescara e 632 all'ASL di Teramo. Grazie.